e buonasera sempre più felice questo bel tempo ti rende felice ho un'intelligenza artificiale che mi fa male si per troppa acqua no no poi c'ho lunghe incarnite diario di bordo 18 maggio 2023 di che parliamo oggi consigli per la salute prendimi la pressione o già sei tutto già sei tutto scommetto già so tu ma tu ti riferisci al fatto che hai fatto gli esami e le mani la mia cartella clinica dove sta allora avete fatto gli esami clinici l'asl non mi rida non mi rida la cartella benissimo andate su prende un tour browser 5 secondi e ci abbiamo 522 giga di dati dell'asl abruzzo a disposizione che hanno scritto pure noi ha che è esatto noi ha che l'abbiamo fatto solo per dimostrare l'identitudine di chi gestisce i servizi informatici dell'asl 1 abruzzo ma noi non abbiamo nessuna un altro non una lira né un euro né un bitcoin niente niente tanto che hanno pubblicato tutto tutto il database dell'asl 1 abruzzo stai una botte di ferro perché mostrami una botte di ferro in mano al gruppo voce finché stavano in mano all'asl 1 abruzzo stavano in mezzo alla strada l'abbiamo